In Molise si diventa mamme sempre più tardi, spesso rinunciando a lavorare o lavorando con contratti part-time. Lo rivela l'Istat nel rapporto natalità e fecondità della popolazione residente nel 2021. Le madri molisane, alla nascita del primo figlio, hanno un'età media di circa 33 anni, superata solo da quelle del Lazio, Basilicata e Sardegna. Una regione che invecchia dati poco incoraggianti, confermati anche dal censimento della popolazione. In un solo anno il Molise ha perso circa 2.144 residenti. A diminuire sono anche i cittadini stranieri. Oltre alla pandemia, ad incidere sulla diminuzione delle nascite, sono anche gli abbandoni. I giovani si trasferiscono in altre città italiane o all'estero in cerca di lavoro. Il governo aveva annunciato l'intento di adottare una serie di provvedimenti per far fronte al problema. Una misura che sarebbe più che mai necessaria in Molise, dove il fenomeno dello spopolamento è più grave rispetto ad altre regioni.